l'aquila vede tutto con il suo occhio acuto controllato a sua volta da satelliti e droni ma non si può levarle l'innata libertà il wildness ridotto certo l'ucciderà e mai sarà la fame a farla patteggiare l'aquila è nel reale nata per il sublime e le sue ali spiega al di là dello schermo